buongiorno ragazzi e ragazze come state? ho detto buongiorno troppo alto guarda che panchi si è proprio girato come state? bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video lo so che mi avete già vista truccata vestita e abbigliata in questa maniera ma sto registrando ho il pomeriggio libero e sto registrando diversi video reflection time ho pensato di sfruttare il pomeriggio di oggi così quindi ho più video da proporvi mi sto scrivendo molto spesso gli argomenti di cui voglio trattare poi quando arrivo ad avere un considerevole momento di tempo libero appunto mi metto qua e registro quindi oggi di che cosa voglio parlare? voglio parlare di un argomento che considererei quasi un macro argomento cioè potremmo scrivere su questo argomento paragrafi capitoli libri senza mai smettere ed è quello della volgarità allora per quanto riguarda la volgarità credo di aver fatto anche un video a gennaio però era un video che verteva su diciamo la volgarità maschile ecco oggi invece volevo prenderla in maniera diversa cioè volevo raccontarvi quella che è la mia opinione di volgarità portandovi appunto un esempio pratico di quello che è secondo me la volgarità partiamo dal presupposto che questa è la mia opinione mia non vostra quindi se voi avete un'opinione totalmente differente dalla mia scrivetemela va benissimo così non siamo qui per farci cambiare idea a vicenda che poi ci starebbe da fare un ulteriore video poi su questa cosa del cambiare idea e lo farò allora oggi volevo parlare della volgarità perché durante l'estate purtroppo mi sono trovata a sfogliare instagram purtroppo i social media danno un po di dipendenza e io avendo instagram ogni tanto passo il tempo guardo di qua guardo di là eccetera eccetera non seguo molte persone su instagram lo vedete se mi seguite su instagram vedete che non ne seguo molto molto spesso metto il segui a volte lo tolgo quando vedo cose che no in realtà non è vero quando un profilo non pubblica niente di interessante poi tolgo il segui però in realtà più o meno ho sempre mantenuto sulle 35 persone seguo 35 persone però a volte mi trovo anche a guardare l'altra pagina di instagram cioè il menu dove si scorrono le foto di persone che non segui quindi c'è il mix di foto e mi sono imbattuta quest'estate non so se era luglio agosto non mi ricordo assolutamente su delle foto di chiara ferragni parlo di lei perché questo discorso mi è venuto in mente vedendo queste foto ma non ce l'ho con lei non me ne frega niente poteva essere chiunque a fare questa cosa qui non me ne frega proprio niente della persona lei cito lei perché lei che mi ha fatto venire il guizzo però poteva essere chiunque non me ne frega più di tanto chi comunque mi sono imbattuta in delle foto dove appunto lei essendo sponsor sponsorizzava appunto dei costumi di intimissimi mi pare anche giusto lei ha un seguito enorme e quindi ci sta che le aziende le facciano sponsorizzare le cose e fin qua tutto perfettamente lineare e normale e quindi sponsorizzava dei costumi da bagno dei bichini veramente molto molto striminziti veramente proprio a filo non so quei bichini che adesso vanno tanto per la maggiore e che veramente lasciano poco all'immaginazione però son gusti o se piacciono piacciono c'è la libertà e quindi ognuno faccia quello che vuole quindi dei bichini proprio molto striminziti e vabbè niente di che ha messo circa dieci foto e io ovviamente le ho scorse tutte le ho guardate la cosa che mi ha dato fastidio in queste foto e che ho ritenuto di una volgarità immane veramente dilagante proprio volgare e il fatto che lei indossando questi costumi aveva tutte le pose sai per far vedere un costume per farlo vedere al meglio così come quando anche devono le modelle mostrare un abito lo devono far vedere da tutte le angolazioni e sono pienamente d'accordo quello che mi ha dato mi ha dato fastidio è il fatto che lei ha assunto in queste dieci foto che io scorso quasi tutte le foto sempre una posizione a gambe aperte ecco considerato il fatto che il costume era molto 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 striminzito tutte le foto quasi tutte non tutte vabbè mettiamo 5 su 10 vabbè tutte a gambe aperte io l'ho trovato di una volgarità infinita ma ripeto non me ne frega niente se lei e chiara ferragni poteva essere la cucinotta poteva essere giulia roberts poteva essere monica bellucci poteva essere qualsiasi non me ne frega niente di chi però trovo proprio quella la volgarità cioè non trovo il costume volgare in sé anche se personalmente a me non piace però se piace si può indossare ma il fatto di voler mostrare il costume con tutte le foto a gambe aperte proprio a gambe aperte perché a me aperte l'ho trovato veramente di cattivissimo per non dire pessimo gusto quindi secondo me a volte la volgarità non è neanche tanto nel costume cosa voglio dire nel in quello che indossi nell'esteriorità ma è proprio come come ti poni tu con indosso quel costume o con indosso cioè proprio proprio il tuo modo di presentare una cosa non trovate cioè secondo me alla fine la volgarità e della persona non tanto nel costume no perché uno avrebbe potuto mostrare il costume in maniera diversa con altre posizioni invece tu mostri il costume con tutte le posizioni sempre a gambe alla gambe aperte a gamba all'aria sembra quasi poi sai ma la cosa poi che ancora ancora mi fa riflettere per non dire inalberare e che quando poi tu noti che ci sono delle per io non ho commentato ma che sotto quella foto lì ci sono delle persone che effettivamente dicono insomma potevi anche sponsorizzare questo costume a gambe chiuse o comunque in altre posizioni il fatto che tu lo faccia a gambe aperte è proprio una scelta insomma discutibile no quello che mi fa proprio andare fuori di melone è quando la gente tira in ballo l'invidia ma che c'entra l'invidia scusate ma cosa dovrebbe invidiare una persona una che si mette un costume striminzito e si mette a gambe aperte cioè di solito si invidiano delle cose che sono irraggiungibili ognuna di noi io tutte voi che mi state ascoltando tutti voi riusciamo a metterci un costume fatto a filo e a farci delle foto a gambe aperte perfetto quindi dov'è che sta l'invidia ognuno di noi può farlo l'invidia sta in una cosa irraggiungibile o invidio elon musk perché è bilionario invidio bill gates perché pieno di soldi questa è una cosa che per me ha senso perché sono cose irraggiungibili ma dire che io invidio quella perché si è messa a gambe aperte ma se a gambe aperte si può mettere chiunque perché mai dovrà invidia ma io andate a leggere i commenti scorrete le foto e leggerete che ci sono persone che gli hanno fatto notare guarda va bene tutto ma proprio a gambe aperte insomma è un po brutto proprio cattivo gusto esaltato all'ennesima potenza ecco quando poi viene tirata in ballo l'invidia che non c'entra una mazza perché uno parla di eleganza piuttosto che volgarità arriva l'altro dice ma se invidio ma che c'entra sta invidia la gente quando non sa che dire e se invidioso opinioni discutibili quindi penso proprio che ci siano maniere diverse per presentarsi e per presentare un prodotto a me personalmente che colpiscono l'eleganza la classe e la finezza tutte cose che in quel post non ho visto quindi era questo quello che volevo dirvi in merito alla volgarità voi che cosa ne pensate vi prego di farmelo sapere nei commenti è anche vero però che su instagram è un po dilagante la nudità così come in tv perché qui in italia proprio io credo solo in italia poi non lo so ditemi voi se anche negli altri stati è difficile veramente creare qualcosa di nuovo di diverso senza buttarci una nudità così gratuita poi ci sono anche persone che però dicono eh ma sei bigotta ma cosa c'entra il bigottismo il bigottismo se la prenderebbe con il costume che è troppo succinto io ho detto semplicemente che il costume è succinto ma se piace che la gente se lo comprasse se lo mettesse non ci vedo nulla di male io ci vedo di male nella posa nella posizione lì ci vedo la malizia e la volgarità poi io sinceramente non mi sento bigotta anche perché mi stavo dicendo appunto su instagram è molto facile trovare la nudità e mi spiace che tanta gente anche quando sono andata al mare vedo tante ragazzine ma anche piccole di 14 15 anni che mettono questi costumi veramente striminziti questa cosa mi fa un po paura mi fa un po paura sinceramente avessi una figlia adolescente che mette un costume striminzito un po mi fa paura però non sono mamma quindi forse non posso comprendere fino in fondo questa cosa qui assolutamente quindi è meglio che mi astengo da dare opinioni se io non ci sono dentro ecco niente il mio discorso è finito forse è risultato un discorso un po confusionario si può essere e però questa è la mia opinione spero che si sia capito spero di averla delineata in modo chiaro mi piacerebbe sapere la vostra e ci vediamo in un prossimo video che sicuramente registrerò adesso vi mando un abbraccio un bacio e vi aspetto come sempre nei commenti perché questi video qui reflection time funzionano se ne parliamo insieme ciao